Per la festa della donna è pensiero gradito regalare un mazzo di mimose, simbolo di questa giornata. Ai semafori e agli angoli delle strade però spuntano i venditori abusivi, che approfittano della ricorrenza per fare concorrenza sleale ai commercianti. Circa 250 ai fioristi della provincia di Padova, che chiedono il rispetto delle regole. Come ogni anno combattiamo questa illegalità, che non troviamo assolutamente giusta, in quanto c'è uno sfruttamento di queste persone che vendono, però in realtà innanzitutto non guadagnano nulla. Una battaglia, quella contro l'abusivismo, che si può combattere solo se al fianco dei commercianti ci sono anche l'amministrazione e le forze dell'ordine. È molto importante che le nostre istituzioni si impegnino a tenere sempre alta e vigile la guardia per eliminare questa illegalità. Nei giorni scorsi si sono moltiplicati gli appelli di ambientalisti e di altre associazioni per boicottare i venditori abusivi, a loro volta sfruttati da organizzazioni criminali. A Mestre è messa in campo una pattuglia di vigili urbani per presidiare il territorio. I commercianti lanciano una richiesta anche al sindaco Giordani. Noi il sindaco cerchiamo sempre di rendere partecipe nelle problematiche della città. Questa è una delle tante. Ci auguriamo veramente che questa amministrazione sia sensibile al commercio, sia sensibile alla legalità e alla sicurezza.